Buongiorno Guardia Pronti Aoi Attacco Tocca Punto Guardia Pronti Aoi Ripetta da destra Tocca Certo Attacco da sinistra Tocca punto Tre Guardia Pronti Aoi Preparazione Attacco Tocca Punto Preparazione Attacco Tocca Punto Vai a parare Grazie Guardia Pronti Aoi Alta Attacco Punto Guardia Pronti Aoi Preparazione Attacco Punto Guardia Pronti Pronti Aoi Alta Alta Partito Prima Guardia Pronti Aoi Alta Aoi Pronti Aoi Pronti Aoi Ronti Aoi Ronti Co Pau Pronti Pau Pronti Pau Peronti Grazie. Guardia. Un attimo solo che. Guardia. Pronti. Aoi. Ah, riparazione, attacco, tocca. Punto. Guardia. Pronti. Aoi. Aoi. C'è un casino poi, il prossimo. Stavo detto un po'. In guardia. Pronti. Aoi. Alto attacco. Parato. Risposta, tocca. . In guardia. Pronti. Alta, attacco, tocca. Punto. In guardia. Pronti. Alto attacco, tocca. Punto. In guardia. Pronti. Aoi, preparazione, attacco da sinistra, destra, tocco, uno, video, guardia, confermo, preparazione, attacco, tocco, uno, uno ci sono, guardia, pronti, Aoi, alza, per lì con giallo, in guardia, no, undici, era undici, ho controllato, pronti, Aoi, attacco, tocca, punto, non entri sulla preparazione, guardia, pronti, Aoi, si è fermato lui, in guardia, pronti, Aoi, attacco, tocca, punto, in guardia, pronti, Aoi, attacco, tocca, Aoi, attà, attacco, aorsi, a основi, a attacco, a ir a la fronte della Lanera, a occupaple il diultato di confudere il